A voi tutti buonasera e bentrovati ad intorno alle 9. Questa sera parleremo della giornata per la vita in programma per domenica 7 febbraio. Una giornata che è giunta alla 43esima edizione e che si celebra generalmente la prima domenica di febbraio. Anche a Prato si ricorda questo importante appuntamento e vengono organizzate varie iniziative messe in campo da due associazioni cattoliche che si impegnano di questa tematica che sono il Movimento per la vita e il Centro di aiuto alla vita. E quindi ne parliamo proprio con loro, siamo in compagnia di Catarina Bandini, vicepresidente del Movimento per la vita. Buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti e grazie di essere qua con noi. Grazie a lei e buonasera anche a Patrizia. Benvenuti, presidente del Centro di aiuto alla vita. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei. Ecco appunto il tema di quest'anno della giornata per la vita è libertà e vita. Benvenuti. Le chiedo intanto che cos'è questa giornata per la vita e qual è quindi l'obiettivo anche di questa giornata. L'obiettivo di questa giornata è molto importante. Ci dà l'occasione a tutti in questo giorno di riflettere sul valore della vita umana nascente e di confrontarsi anche con la parola dei Vescovi che sempre tutti gli anni ci sostengono e ci aiutano a riflettere su questo valore fondamentale per la vita di tutti. Quest'anno con il tema libertà e vita sposa proprio il nostro centro di aiuto alla vita, i valori principali che stanno alla base del nostro servizio che sono libertà, cioè quella libertà di far nascere il bambino, libertà di far scegliere alla mamma in maniera libera di accogliere il proprio bambino e poi l'accoglienza e la condivisione. Il centro di aiuto alla vita lavora con questi valori e questo aiuta molte donne ad aprirsi poi alla speranza. E quindi questa è la nostra missione e tutti gli anni in questa giornata insieme a tutta la Chiesa riflettiamo su questi valori che valgono per tutta la nostra società civile, non solo dal punto di vista religioso. Quali sono anche quindi le iniziative in programma per quest'anno? Chiedo quindi prima benvenuti quelle organizzate dal centro di aiuto alla vita e poi a Caterina Bandini per il movimento per la vita. Quest'anno a causa della pandemia abbiamo dovuto cambiare programma perché gli anni precedenti organizzavamo nelle chiese della nostra diocesi un'offerta di primule e bulbi che è un significato ben profondo che voleva dire la nascita, l'inizio della vita, la nascita di una nuova vita per il fiorellino che noi presentavamo. Quest'anno a causa della pandemia per non creare problemi o assembramenti siamo costretti a non metterla in atto, però siamo ugualmente presenti in tutte le parrocchie con il nostro comunicato in cui invitiamo tutti a riflettere sul tema della giornata e in più chiediamo anche un piccolo sostegno per le mamme che vengono dal centro di aiuto alla vita perché il centro di aiuto alla vita ha un'azione concreta e quindi aiuta concretamente le mamme e purtroppo abbiamo bisogno anche del sostegno di tutta la comunità perché altrimenti non potremo dare delle risposte positive. Quindi quest'anno ci sarà questa celebrazione in Duomo domani sera alle ore 18 insieme al Movimento per la Vita la celebrazione sarà presieduta da Monsignor Vescovo Giovanni Nerbini e quindi speriamo proprio domani sera di entrare un pochino in casa di tutti i pratesi e di celebrare insieme e pregare insieme anche per questo scopo per la vita. Celebrazione che ricordiamo anche sarà trasmessa in diretta su TV Prato. Bandini, anche il Movimento per la Vita, oltre a questa celebrazione, organizza anche due in particolare iniziative. Quali? Allora sì, come ogni anno saremo presenti anche noi nella nostra sede storica Gesù Divin Laboratore per animare quel momento lì in modo un po' particolare. Un momento a quale teniamo molto e che da sempre ci aveva visto festeggiare le vite che nascevano nella nostra città era il donare un piccolo fiore alle neomamme del reparto di maternità di Prato. Ovviamente quest'anno non è possibile, quindi simbolicamente andremo comunque all'ospedale a lasciare una piccola piantina, una piccola composizione nella cappella dell'ospedale, proprio perché volevamo in qualche modo avere proprio una vicinanza e una prossimità anche fisica, seppur simbolica, non solo alle mamme, e quindi alle neofamiglie, ma anche a tutto il reparto maternità in questo caso, ma al nostro ospedale in questo momento difficile in cui tutti hanno veramente contribuito per salvaguardare queste vite, anche le più fragili. Quindi sicuramente ci sentiamo in questo momento ancora più portatori di questo messaggio, come diceva Patrizia, di attenzione, di cura alla vita, non solo nel suo inizio, anche quando non si vede, quando è protetto dalla pancia della mamma, ma anche nelle sue condizioni in questo momento di grande fragilità. La nostra attenzione però, come da sempre sapete, è proprio alla vita che nasce e quindi quest'anno abbiamo scelto di rilanciare un progetto che era già nato e che va avanti già da quattro anni, che è quello di Nasce una vita. Come molti di voi avranno avuto modo di vedere, ci sono due lanterne davanti alla chiesina di Sant'Anna in Viale Piave che già da quattro anni si accendono proprio nel momento in cui una nuova vita arriva nella nostra città e quindi le mamme, i babbi coadiuvati, aiutati dal personale sanitario nel reparto di maternità attraverso un tablet, facevano accendere queste luci. Ovviamente con tutte le difficoltà connesse a questo periodo ci siamo accolti che queste luci si accendevano con un po' di frequenza diminuita. Abbiamo quindi scelto di creare, oltre a tutte le accensioni che sarà possibile fare, sempre grazie al personale sanitario che comunque in questi mesi ha continuato ad andare magari al posto delle famiglie ad accendere questa luce, delle accensioni speciali, celebrative. Quindi alla fine di ogni mese, l'ultimo giorno del mese, si accenderanno le luci per un periodo più prolungato proprio per festeggiare queste vite che nascono. Questo progetto è un progetto di sensibilizzazione proprio al dono della vita e quindi ci piaceva sottolineare in questo momento un po' anche, si può dire, di grigio, di buio, questa luce che si accende, il valore dell'accogliere una vita anche in tutte le difficoltà che ci si può trovare ad avere in quel momento lì. Quindi per tutto l'anno ci saranno queste accensioni speciali con degli ospiti che piano piano vi sveleremo. La prima accensione è stata il 31 gennaio con il Vescovo Giovanni e aspettiamo nuovi ospiti che ogni mese vi sveleremo. Sicuramente quindi li scopriremo piano piano. Per quanto riguarda le attività che avete fatto, che fate sia in generale che anche in particolare in questo particolare periodo legato alla pandemia, benvenuti appunto il CAV. In che modo si è organizzato in questo anno e se ci sono anche dei numeri sulle persone magari che avete seguito e che sono entrate in contatto con voi? Certo, nonostante le difficoltà della pandemia il Centro di Aiuto alla Vita ha continuato il suo servizio. Ovviamente si è adeguato ai tempi e quindi la maggior parte dei contatti con le mamme l'abbiamo avuta attraverso i mezzi di comunicazione, i mezzi digitali e fortunatamente ci hanno salvato perché per mantenere questo filo di contatto con le mamme e permettere loro di ricevere ugualmente gli aiuti e i sostegni sono stati d'aiuto grandissimo perché dobbiamo considerare che le nostre mamme sono italiane ma ci sono anche tante donne straniere e quindi per comunicare con loro per telefono magari i nomi un po' difficili invece con l'aiuto di Whatsapp così siamo riusciti a dar loro tutto il sostegno possibile poi ci siamo collegati anche con le farmacie quindi restando a casa siamo riusciti a aiutare le mamme e dar loro il loro necessario e questo è stato una cosa grandiosa certamente i numeri quest'anno sono un pochino di donne assistite sono un pochino inferiore rispetto agli anni precedenti perché ovviamente un pochino le persone sono state proprio non avevano bisogno sono state a casa loro però comunque abbiamo assistito 288 mamme e gestanti e abbiamo assistito 276 bambini ovviamente gli incontri come dicevo a causa del diverso modo di interloquire con le mamme in incontri in presenza sono stati solo 1481 però abbiamo ugualmente cioè organizzandosi dando appuntamento evitando i contatti abbiamo comunque erogato 28.540 pezzi di indumenti poi inoltre senza considerare passeggini e altre cose per cui diciamo che non abbiamo perso il filo conduttore non abbiamo non siamo venuti meno alla nostra missione e questa è una cosa confortante ecco quindi speriamo che in futuro le cose cambiano un attimino e si possa veramente avere gli incontri in presenza con le mamme perché ovviamente l'aiuto si fa materiale abbiamo fatto in modo di farlo avere però quello che è importante nel nostro servizio è anche la relazione il rapporto con le mamme quindi quel contatto umano che è fondamentale nel nostro servizio perché di questo si tratta per cui il condividere anche le loro difficoltà i pianti e tante altre difficoltà farlo di persona è tutta un'altra cosa però comunque ci riusciamo attraverso questi mezzi che ci possiamo ugualmente vedere dare ecco quella speranza, quell'aiuto di cui queste mamme hanno bisogno perché dobbiamo considerare loro sono tantissimo in difficoltà perché molti di loro, molte delle famiglie hanno dei lavori precari quindi in questa situazione, questa pandemia molti di loro sono stati veramente in difficoltà neanche per comprare un biberò al loro bambino, un latte perché magari il lavoro l'hanno lasciate a casa per cui è stato ora un momento veramente duro, comunque però non abbiamo perso i contatti e questa è la cosa importante e soprattutto ci interessa far sapere che noi ci siamo, abbiamo comunicato tutti i numeri di cellulari che possono chiamare 24 ore su 25 abbiamo il sito, quindi il modo di raggiungerci per qualsiasi situazione noi ci siamo quindi questa è un'occasione stasera proprio per farlo sapere a tutti che attraverso il sito, attraverso i nostri cellulari che abbiamo pubblicato ci possono contattare a qualsiasi ora esatto, esatto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è davvero terminato io però ringrazio davvero Caterina Bandini e Patrizia Benvenuti per essere state con noi e quindi appunto vi invito nuovamente tutti voi i nostri telespettatori insomma anche a contattare queste due associazioni sul territorio appunto che come hanno ribadito loro ci sono, ci sono sempre, ci sono state durante la pandemia e ci saranno sempre e quindi grazie ancora ai nostri ospiti e a tutti voi grazie per averci seguito e arrivederci Grazie